Partiranno tra poche ore gli screening nelle scuole di Pescara, scuole primarie, scuole secondarie e scuole superiori. Assessore, è un grande lavoro che avete messo a punto e tra poche ore ci sarà il via a questi screening. Abbiamo chiuso gli incontri ieri sera alle ore 21 con la AS, con il direttore generale e con il dottor Polidoro. Siamo riusciti a trovare il personale per effettuare questi screening prima che i ragazzi tornino a scuola. Quindi saranno effettuati gli screening l'8 e il 9 di gennaio. Nella scuola media Foscolo e nella scuola media Rossetti faremo lo screening per i ragazzi delle primarie e scuole medie. Invece nella palestra del liceo scientifico Galilei in via Balilla faremo lo screening per i ragazzi delle scuole superiori. Non c'è obbligatorietà per fare lo screening, però un consiglio che io posso dare a tutti i genitori di fare effettuare questo screening ai ragazzi in modo da tornare a scuola in sicurezza. Abbiamo lavorato tanto per organizzare questa cosa prima che i ragazzi tornassero a scuola, quindi vorrei che anche i genitori ci dessero una mano per far sì che tutto sia sotto controllo. C'è stata qualche incertezza in questi ultimi giorni, sembrava che le scuole l'avressero procrastinate alla settimana successiva, se non addirittura a fine mese. Però il governo centrale ha deciso di riaprire le scuole in presenza, quindi noi ci siamo preparati e siamo pronti per far sì che tutto ciò accada.